Luca Azzolini, Rubare sogni al cielo Le parole, quelle dannate parole che non sapeva trovare e che a volte erano così difficili da far uscire, le riuscirono invece facili. E a me? E a me non ci pensi? Me lo dici così? Suo padre non rispose a quella domanda. Tirò solo dalla sigaretta e guardò il fiume scorrere lento. Lo sai che la mamma sta male? Papà, non puoi lasciarci da sole? Lo chiamò così, di proposito, per ricordargli ciò che era per lei. Saverio, però, era sempre stato un uomo fumantino. O così, le diceva la nonna quando parlava di lui ed era furiosa. E cosa vuoi che faccia io? Scoppiò contro la regina. È depressa, lo è da una vita, non si vuole curare. Cosa vuoi? Lei non aprì la bocca e tacque, capendo per la prima volta il significato di quella parola ripetuta da sua nonna. Cosa vuoi? Lei non aprì la bocca, capendo per la prima volta il significato di quella parola ripetuta da sua nonna. Lei non aprì la bocca.